I Vigili del Fuoco precari oggi della Calabria sono scesi in piazza nelle province calabresi di Vibbo, Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro proprio per rivendicare il diritto al lavoro, per la stabilizzazione e l'assunzione di tutto il personale precario come giustamente da risoluzione Fiano perché comunque abbiamo un documento, non un documento, è la gazzetta ufficiale dove parla di questa distinzione degli elenchi in più della futura stabilizzazione sappiamo che ha fatto fino ad oggi, a parole praticamente ci hanno ribadito che comunque la faranno però oggi vogliamo i fatti, non siamo solamente in Calabria, siamo in tutte le città italiane proprio per rivendicare questa stabilizzazione perché comunque noi come Unione Sindacale di Base ribadiamo e rivendichiamo la salvaguardia, la prevenzione e la sicurezza del cittadino, quindi noi non ci muoveremo da qui fino a quando da Roma non esce il documento di stabilizzazione Grazie